28 le violazioni contestate per i divieti di spostamento su 1446 controlli effettuati dalle autorità nella giornata di ieri per l'osservanza delle misure di contenimento previste nel decreto legge e quanto comunica la prefettura di pesare urbino annunciando anche delle irregolarità due titolari di attività sul territorio su 473 esercizi commerciali verificati. Il prefetto Vittorio Lapolla ha disposto nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica un'intensificazione dei controlli su tutto il territorio in occasione dei prossimi due fine settimana caratterizzati dalla festa della celebrazione della liberazione e della festa dei lavoratori dove saranno impegnati al fine di rispettare le norme di contenimento tutte le forze di polizia, militari delle forze armate e polizia locale. La prefettura inoltre comunica attraverso una nota stampa che continua il suo impegno anche alla verifica delle comunicazioni inoltrate dalle imprese che intendono proseguire l'attività produttiva. In dato odierna, fa sapere, sono state protocollate 1431. Di queste, una parte, 1176, la trattazione si è conclusa con esito positivo, mentre 249 è in corso l'istruttoria. Invece per sé imprese è stata disposta la sospensione dell'attività. Sul fronte della sanità marchigiana, invece, sono risultati 76 tamponi positivi su 1440 analizzati nelle ultime 24 ore, un numero che segna una brusca risalita nei nuovi casi, in calo da diversi giorni, in contemporanea con l'aumento dei test processati giornalmente. In totale, i casi positivi registrati sono 6.028 su 33.113. Dato positivo in costante crescita, invece, è quello riferito ai dimessi e guariti, che salgono a 1.890. Dato positivo anche per le terapie intensive degli ospedali. A Marche Nord i ricoverati sono scesi a 8, mentre al Torrette di Ancona ha due pazienti.